Domenica dopo la partita c'è stata tanta incazzatura in spogliatoio, tanta amarezza, perché è stato un risultato un po' ingiusto, come abbiamo fatto soprattutto il primo tempo, dove potevamo essere nettamente in vantaggio per 2-3-0. Ovviamente se le partite non le chiudi può succedere di tutto. È successo l'impensabile, che loro sono riusciti a portarla a casa. Ovviamente adesso non dobbiamo disperarci, dobbiamo continuare ad ascoltare il mister e continuare ad allenarci come ci stiamo allenando e portare avanti le idee del mister e continuare così. Comunque partita dopo partita siamo in crescendo, quindi siamo fiduciosi. Le due reti, la prima è partita dal rinvio del loro portiere che l'ha allargata al quinto e là potevamo mettere un po' di pressione, potevamo stare più alti. Poi il quinto ha spazzato una palla incredibile e è arrivata la fatalità al limite dell'aria, dove là si poteva proteggere il portiere che era in uscita e dopo l'attaccante loro è andato a saltare col portiere. Non so se io avrei fischiato fallo, dopo non ha fischiato fallo e ha segnato. Questa è stata la prima occasione, dove si poteva dare una mano ad Andrea che era in uscita e il secondo gol invece c'è stato un cambio gioco, dove il loro quinto ha saltato il nostro terzino su uno contro uno e dopo in aria non siamo riusciti a chiudere sui loro attaccanti. Negli ultimi due anni ho avuto degli infortuni, soprattutto all'inizio anno, che mi hanno compromesso la prima parte di stagione e è dura dopo riprendere da zero. Adesso mi tocco, però per ora fisicamente sto bene, ho lavorato anche molto quest'estate per prevenire questi infortuni, rinforzando la muscolatura. Per ora sto bene, ripeto, spero di continuare così. Certo, la continuità ti dà tanto. È una situazione, una lettura, dove, ti ripeto, noi della linea difensiva potevamo dare una mano. È stata una lettura così e ovviamente gli errori ci stanno, anch'io posso sbagliare, possono sbagliare tutti. L'importante è, per esempio, non siamo riusciti a reagire su questo. Anche con l'Intel è successo lo stesso, che abbiamo subito gol e siamo un po' spenti. Però dobbiamo cercare di tirare fuori più carattere e reagire, soprattutto quando prendiamo gol. Grazie. Grazie.